Ciao Franco, Norma, io e Franco facciamo un hot date oggi, salutami Lori, Dario, il tuo fratello, e chi? La tua mamma, angiolina, eppure tutti i miei cugini, un abbraccio, un forte abbraccio, mi mancate tutti, Teresa, Riccardo, questo è Franco, il marito della famosa Norma, quello dell'altra volta, ogni anno abbiamo hot date, allora Teresa, Riccardo, e poi Peppe, anche Remo, Sabrina, Simona, Enrico, Ilaria, e tutti i figli, bacioni, ciao! Ciao!